Oggi pensiamo ai regali, ti sei un po' preso della parte Ciao a tutti! E benvenuti nella nostra cucina virtuale che non è più una cucina Ecco faccio la parma Benvenuti sotto il nostro albero reale Eh sì, la famiglia Due Cuori e una K in tutti i suoi componenti Aspetta, l'accento, saluta Ciao, saluta Enzo Ciao Ecco, in tutti i suoi componenti è qui presente per suggerirvi i regali di Natale È un periodo molto importante in cui Babbo Natale deve sapere cosa desiderate Certo E allora, quale momento migliore per spedire la letterina, giusto amore? Eh, bravo Hai scritto la lettera? Eh, ma ancora no, non la scriverò Ora la scriviamo e la facciamo vedere anche agli amici di Arte per Te come si fa una bella lettera di Natale Bene, dai, allora basta Allora, qui sono i nostri dieci suggerimenti per dei regali sorprendenti Cucina Style Certo, noi naturalmente su Due Cuori e una K parliamo di cucina Quindi tutti gli accessori più o meno divertenti da regalare per Natale Cominciamo subito Posso dire una cosa? Posso dire una cosa? Difidate delle imitazioni Se vedete due persone simili a noi, non siamo noi Ma ci sono questi di cui parlo sempre? Stai attenta, stai attenta Cioè... Vi giuro Ah no, ah no, gli ho chiamandola Vi giuro che io non so La piele e ombletta No, no, no Allora, primo regalo numero uno Consiglio numero uno Un sempreverde come regalo natalizio è sicuramente il libro Eh beh, tu non potresti suggerire altro Libri di cucina, libri per lui e per lei di cucina Libri fotografici sempre di cucina Libri d'epoca di cucina E basta Io direi che se un uomo ha una passione particolare Come per esempio l'assaggiare vini piuttosto che dei sigari particolari Ci sono dei libri bellissimi che parlano degli abbinamenti vino, birra, liquori Con le varie cose che si fumano senza entrare troppo in dettaglio Oppure ci sono dei bellissimi libri dedicati al cioccolato per le signore che amano fare dolci O i libri regionali Mentre trovo che sia un'idea molto intelligente regalare anche per Natale un libro che sia da auspicio buono per l'anno futuro Cioè le guide ai migliori ristoranti d'Italia In modo che se uno viaggia può avere la guida su dove dirigersi per andare a mangiare bene Perfetto Quindi adesso la numero 2 Bene, questo devo essere sincero è il mio regalo preferito Quindi amici di 2 Corina K prendete nota E comunque tu un'amica di Cuneo ti ricordi che l'anno scorso hai inviato il panettone Quest'anno perché non l'hai fatto? No Quest'anno perché non l'hai fatto? E grazie Va bene lo stesso, mandalo quindi Bene, quindi uno dei regali che mi piace ricevere Che mi piacerebbe è la cesta La cesta con tanti doni, panettoni, liquori, salamini Non c'è bisogno che ti addentri nei meandri del fungo Una cesta piena di prodotti mangerecci E' un sempre verde, è un qualcosa che piace a tutti E che con un solo dono può fare felici più membri della famiglia Basta farcirla bene, con intelligenza Poi, regalo numero 3 Attrezzi piccoli elettrodomestici che facilitino la realizzazione di dolci Le creppiere, le macchinette per fare i waffle Gli sbattitori Gli sbattitori Le fruste elettriche Le fruste elettriche Sbattitore elettronico Sbattitore sei tu Allora, le fruste elettriche Ma non parlavo tanto di questo Tanto di quelli tipo la macchinetta per fare i pop corn La macchinetta per la fonduta del cioccolato Tutti quegli strumenti che poi nel corso dell'anno si usano una, due O neanche quella Che però sono molto divertenti da avere all'occorrenza Diciamo che se uno ce l'ha nel cassetto è più sereno Certo, sì Enzo esci dall'addietro Ce l'ho, dice Però, insomma Sono dei bei regali che di solito le persone non si autofanno Perché sono soldi molte volte Perché quando lo vedi, lo metti nel carrello Poi appena arrivi alla cassa Alla cassa lo lasci Che cavolo è? Che cosa neanche posso fare? Mentre se ve lo regalano non potete lasciarla alla cassa E comunque è una cosa che strappa un sorriso E divertente E state sicuri che nei giorni subito successivi Sarà utilizzato anche se lo fosse la mia Bene Quattro Naturalmente Se il vostro lui o la vostra lei è un'appassionata di funghi Sì, di funghi, giusto? Sì, di funghi potete regalarle il coltello con lo scovolino per i funghi Oppure la gerla, la sacca per trasportare i funghi Ci sono i set E da poter disperdere il spore I set I set I set I set Comprendo Anche la borraccia La borraccia dove potete mettere dell'ottimo brandy Ma che sta dicendo? Mica se è un San Bernardo Non si sa mai Però state attenti che la persona a cui la regalate sia una persona che va a funghi Ottimo per le persone velenose Giusto? Per le persone sì, per le noce No, no Accertatevi E soprattutto accertatevi che non siano superstiziose Quindi essendoci una lama corredata nel regalo Fatevi dare un centesimo incorrispettivo Queste cose tipicamente di cultura nordica Sì lo so, io non ci credo E sono molto di cultura del sud probabilmente Ma non è anche tanto Sai queste cose insomma La superstizione dilaga un po' ovunque Però piuttosto che interrompere un'amicizia a causa di un regalo È sempre bene prendere questa precauzione Perché io non ci credo Ma può darsi alla persona a cui la regalarsi Quindi potete regalare un centesimo Numero 5 Bellissimo 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 Se me lo regalassero Sarei felicissima Un barbecue portatile Ma no quello con la carbonella ragazzi No di quello piccolo Vi mettiamo una foto Ma di quello serio Ecco qua È bellissimo L'ho visto in un negozio Me ne sono innamorata Sembra quasi un potti vero? Sembra quasi Sembra un vaso Un vaso colorato Sì Però ci si cuoce la carne dentro Non mi dire Ed è carissimo Costa un pochino però Quindi questo è un regalo Più impegnativo Più impegnativo Magari per tutta la famiglia Quando sapete che è una famiglia di campeggiatori Di camperisti Di gente a cui piace la vita all'aria aperta Potrebbe essere un bel modo per Mandarli fuori di casa Mandarli via è vero Numero 6 Il mio elettrodomestico preferito È vero È vero Un buon robot da cucina Se avesse le mani potesse parlare Mi tradirebbe con lui Vero? È vero Me ne sono comprata Una di recente Un Kenwood A 39,99 Sì sì Una grande offerta E sono felicissima Perché il robot da cucina Il processore Quello che tu Metti i cibi E te li frantuma Te li sminuzza Te li affetta Te li trita Te li mischia Te li fa Te li dice Te li condisce È l'ideale È l'elettrodomestico Che ogni casalinga Usa di più Se ce l'ha E che benedice il marito Quando glielo regala Quindi regalate un bel mixer Mi raccomando però Figli Regalatelo alla mamma Ma mariti Non regalatelo alle mogli Mariti alle mogli Andate su Ombretta E vedete cosa comprare Perché c'è il video Sui regali per lei Vista di messaggio subliminale Sì sì Cliccate qui Dove c'è il facciano Del simpatico ragazzo E andate sul canale Ombretta Ad iscrivervi E a vedere il video Su cosa regalare Alle mogli Bene Dai Andate Andate di robot Numero 7 Macchinetta per il caffè Numero 7 Eh sì Quella con le cialde Che senza cialde Con le capsule Con le capsule Informatevi Potrebbe anche Non essere quella Con le capsule Potrebbe essere Quella con la polvere libera Con la cialde Insomma Però io l'ho pensata Quando ho stilato La classifica dei regali Come un'idea carina Per chi ha espresso Il desiderio Perché Perché ragazzi Sappiate che la macchinetta Del caffè Con le capsule Implica un impegno Economico Notevole Che sono appunto La ricarica delle capsule Quindi se la persona A cui volete regalarla Sapete già Che è orientata Verso questo acquisto Allora Precedetela E regalateglielo a voi Però Se non ha espresso Questo desiderio Evitate di farlo Sei un tizio Regalategli un bel barattolo Di Nescafè Tiè Ho pensato a questa Idea Perché questo è l'anno In cui c'è stato il boom Delle macchinette con capsule Sono esplose Spero non nelle vostre cucine E soprattutto Se sapete Di amici Che invece Hanno già Queste macchinette Una bella selezione Di caffè In capsula È un regalo Fantastico Anche le bevande Tipo cappuccini Tè Varie Perché Gli togliete Un'incombenza economica Pazzesca Ed è un regalo Gradito Brava Hai rotto le capsule Io rompo sempre le capsule Caro mio Siamo al numero 8 Al numero 8 Ho inserito Una serie Di elementi Simpatici Guardo qui Perché ho il cellulare Che abbiamo visto Durante una gita Durante una passeggiata Pomeridiana In centro città Allora Siamo andati da Queen E abbiamo vissuto Questa parete Piena di accessori Buffi per casa E cucina Dal tagliapizza A forma di bicicletta Alla Spara ketchup E maionese A forma di pistola A forma di pistola Al Good Grips Che è una sorta di spirulatore Sì Voi mettete la zucchina E ve lo fa La tempera A spaghetti In pratica Oppure Il pesciolino Che ciuccia il tuorlo Dell'uovo E lo rispuda da un'altra parte Per separare il bianco Dal cross Questo è un po' schifo Ma è carino Oppure le presine A forma di pasta Tipo i farfalloni A forma di farfalla O ancora Bellissimo Sempre della Good Grips Mi è piaciuto tantissimo L'oggettino che serviva a facilitare il taglio dei pomodorini Praticamente voi mettete tutti i pomodorini L'uva Le cose piccole Le cose chicchi Tranne naturalmente le olive Sono denocciolate Sì Le mettete tutte dentro Poi c'è una lama Che tipo di ghiottina Ve li divide perfettamente a metà E quindi voi non dovete mettervi singolarmente A snocciolarvi le olive Ma ciò che più di tutti Oppure che ne so Per un uomo Una finta bottiglia di vino Con dentro gli accessori Da sommelier Bellissimo Oppure un Tappo Per vini e spumanti A forma di cilindro Questi sono la serie di oggettini Che si aggirano tutti dagli 8 Ai 15 euro Quindi sono pensierini Divertenti E comunque utili Per rendere più simpatica la cucina Bellissimo Numero 9 Numero 9 È un bellissimo regalo da fare Ce ne sono oramai di tutti i prezzi Anche quella della Lidl è ottima La macchina del pane La macchina del pane È un elettrodomestico Che molti snobbano Ma che quando poi si acquisisce in famiglia Diventa un elemento proprio della famiglia E della cucina a tutti gli effetti Di solito quello che succede è questo La si compra La si usa quotidianamente Per un paio di mesi Si mettono su 6 chili Perché ogni giorno si mangia un chilo di pane circa Dopo di che si capisce Che quello non deve essere uno sforna pane quotidiano Ma deve essere un aiuto in cucina E allora la si accantona per un po' Dopo di che la si riprende all'occorrenza E quando è l'occorrenza? Quando voglio preparare i panni in pasta Quando voglio preparare gli evitati Durante le festività Quando voglio preparare dei panni particolari Ed è un elettrodomestico bellissimo da avere in casa Che salva la vita molte volte E che quel giorno che vi annoiate proprio Di scendere per comprare il pane Ecco Lei vi risolve il problema Quindi la macchina del pane Sì Decimo regalo Abbiamo pensato alle coppie Che amano stare insieme in cucina Allora Ci sono tantissimi corsi in giro Che implementano la cultura culinaria Dai corsi per i lievitati Ai corsi di cake designer Ai corsi per sommelier O per fare il sushi Magari con vostro marito Potrete decidere Degalandogli uno di questi corsi Di vivere questa esperienza in cucina comune Che vi avvicini ulteriormente È un modo simpatico Per uscire qualche oretta da casa E dedicarsi alla coppia Come acquisizione di nuove esperienze All'interno dell'ambito culinario Noi che corso faremo? Noi facciamo un corso di dattilografia Bellissimo Se questo video naturalmente vi è piaciuto Segnalatela a Babbo Natale In modo tale che vi possa portare questi regali Quindi condividete questo video E mi raccomando Difidate sempre dalle imitazioni E se volete mandarci la cesta Questo qua è l'indirizzo Bene Detto ciò Noi ci rivediamo presto Sì sì Qui sotto l'albero Vicino alle vostre tavole Ciao Ciao Ciao